Giacob & Co. Il Bugatti Chiron e lo Chiron Tourbillon, sinergia tra automobili e orologi di lusso. Nel 2019 Giacob & Co. ha stretto una partnership straordinaria con Bugatti per creare un orologio che cattura l'anima e la potenza della leggendaria Bugatti Chiron. Il risultato di questa collaborazione è il Bugatti Chiron Tourbillon, un orologio che va ben oltre il concetto tradizionale di orologeria di lusso. Una delle caratteristiche più impressionanti dello Giacob & Co. Bugatti Chiron Tourbillon è il suo automa, che riproduce fedelmente il funzionamento interno del motore Bugatti a 16 cilindri. Premendo la corona destra dell'orologio, il motore in miniatura prende vita. L'albero motore gira, i pistoni si muovono e due turbocompressori, in scala ridotta rispetto ai quattro presenti nella Chiron reale, girano. Questo spettacolare automa è un omaggio alla maestria ingegneristica e all'arte orologera, unendo due mondi apparentemente diversi in un'unica creazione. L'orologio è dotato di tre corone, ognuna con una funzione unica, poste sul retro della cassa in un omaggio al mondo dell'automobile. La corona sinistra serve per impostare l'orario, quella centrale per caricare il movimento e attivare l'animazione del motore in miniatura, mentre una pressione sulla corona destra avvia l'animazione del motore. L'orario viene visualizzato sopra la replica in miniatura del motore, con lancette scheletriche e segnali orari. Il movimento dell'orologio è alimentato dal calibro Jetta CAE37 a carica manuale, composto da ben 578 componenti individuali. Questo meccanismo è dotato di due barili che forniscono una generosa riserva di carica di 60 ore. Ogni dettaglio del movimento è stato assemblato e decorato a mano, garantendo la massima precisione e la bellezza estetica. Il Bugatti Chiron Tourbillon ospita anche un tourbillon volante inchinato di 30 gradi, che opera a una frequenza di 3 Hz, completando una rotazione ogni minuto. L'indicatore di riserva di carica nella posizione delle 9, decorato nei colori del tricolore francese, aggiunge un tocco finale di eleganza a questo orologio straordinario. Per rendere omaggio all'industria automobilistica, il movimento dell'orologio è sospeso all'interno della cassa in quattro punti, riprendendo la funzione degli ammortizzatori. Questa caratteristica non solo è visivamente accattivante, ma ha anche richiesto la creazione di un sistema trasversale speciale in stile automobilistico per evitare danni ai perni delle corone. L'indicatore di riserva di carica nella posizione delle 3 è stato stilizzato come un indicatore di carburante, aggiungendo un ulteriore elemento di connessione con il mondo delle auto ad alte prestazioni. La collaborazione tra GECO Band Co e Bugatti rivela un'etica condivisa di lusso e innovazione, plasmata nella straordinaria eleganza dello GECO Band Co. Bugatti Chiron Tourbillon.